Autore che abbiamo ascoltato con grande dovizia di particolari fino ad adesso e invece cercheremo di stare nei tempi ma di raccontarvi un'altra storia bellissima, anzi tre storie bellissime sarei andata ai bastioni di Orione, alle porte di Tanoi, se mi avessero chiesto di presentare questo libro perché è un libro molto bello e farlo dal ghero per me è un cuore che si spezza e perché questo libro si intitola, è un titolo difficile, Amori comunisti di Luciana Castellina cronache nottetempo, è decisamente un titolo in direzione abbastanza contraria, abbastanza ostinata è molto bello parlare con Castellina perché è una grande donna della Repubblica perché ogni volta ad ascoltarla ci si incanta, perché scusate c'è un conflitto di interesse ma è la fondatrice del mio giornale che è il manifesto che peraltro è anche tornato in Sardegna dopo tanti anni e per noi è stato, grazie, un miracolo, un miracolo speriamo che riusciamo a tenerlo nelle vostre rigole e poi perché questo libro parla di Amori comunisti e solo lei poteva scrivere una cosa così complicata un titolo che è quasi uno simolo sono tre storie d'amore e di passione, di passioni per l'amore e per la politica che si intrecciano, che si intrecciano, non si riescono a distinguere i due piani e che si consumano tragicamente a volte, dolorosamente nel fuoco di una battaglia di una resistenza, di una guerra civile comunque in situazioni impossibili, disperate non poteva che scriverlo lei perché Luciana Castellina che non presento perché è molto conosciuta però insieme è una giornalista, è stata una dirigente politica quindi un'inviata del Partito Comunista in situazioni un po' speciali e poi è stata deputata, eurodeputata e quindi ha attraversato spesso queste storie le storie che racconta, poi lo diremo troveremo il tempo per dire tutto sono storie che lei a un certo punto della vita ha incrociato ha avuto anche in qualche parte perché lei stessa ha una biografia di romanzo infatti la prima domanda che vorrei farti Luciana dandoti il benvenuto qui ad Alghero e tu sei testimone in qualche misura di quello che scrivi dentro questa scrittura a leggia un po' di Hemingway, un po' di John Reed questi che raccontano le grandi storie un po' di Kapuscinski che ci dice che con erodoto insomma che bisogna essere un po' testimoni per raccontare ma quando uno legge un libro, legge un titolo come questo amore comunisti firmato da Luciana Castellina e si chiede, ma allora si racconta di Milte Iotti di Teresa Noce, forse stesso degli amori comunisti di Luciana Castellina e invece no, non ci sono questi amori qua è peggio nel senso che tutti mi hanno subito chiesto appena hanno visto questo titolo e devo dire che io non mi sono resa conto che questo sarebbe venuto in mente ai lettori la prima domanda che mi è stata fatta è ma allora ci racconti dei tuoi amori con aria come dire un po' complice e voi sapete che il pettegolezzo è la cosa che piace di più e quindi questa era la speranza io gli ho detto, meravigliata io stessa di questa domanda perché non pensavo che sarebbe venuto in mente ho detto no, per la verità no allora con un ultimo filo di speranza e ce la sono quelli del PC sperando in una tresca di Milte Iotti o una cosa di questo genere e io gli ho dovuto dire no e allora ho visto la disillusione profonda negli occhi dei miei interlocutori e spero che non sia la vostra perché non si tratta né dei miei come è ovvio ma nemmeno di quelli del PC va bene, al prossimo libro no, no, no scusate io cerco la notizia faccio un mestiere per cui no, sono storie straordinarie tre storie che si muovono in tre situazioni diverse della storia delle guerre civili di tre guerre civili diverse cominciamo con una prima facciamo tre piccoli assaggi di queste storie prima di parlare un poco più in generale di quello che è scritto la prima è la storia di un grande poeta turco Nazim Hikmet siamo nel 38 dopo la morte di Ataturk la Turchia cade sempre più verso, diciamo, non ci sarà la guerra verso, la faccio molto breve questi sono episodi di storia che, episodi, pezzi di storia importante che in molti conoscono anche meglio di me i comunisti vengono incarcerati che è uno sport che è successo diciamo, piuttosto spesso in giro per il mondo talvolta invece i comunisti hanno incarcerato quando si parla di comunismo noi abbiamo letto religiosamente il libro nero quindi non è che non sappiamo non ne parliamo in maniera idilliaca naturalmente e insomma Nazim viene incarcerato a più riprese ma ne parliamo perché dentro questo nel carcere in una situazione terribile dove la sua salute viene fortemente toccata è un carcere in cui resta a fasi alterne comunque quasi 30 anni si innamora di una giovane che la viene a trovare che è un Everandak così si dice? che sono anche difficili da pronunciare i nomi turchi e diventa gelosissimo lei è sposata, lui è sposato lui sta in carcere, è gelosissimo vuole assolutamente che lei si liberi per stare con lui ma lui sta in carcere e quindi è una storia bella e tremenda dura molto tempo alla fine Nazim Ahmed viene liberato consuma brevemente l'amore con lei per poco non devo spoilerare hai ragione, hai ragione però insomma hai ragione una storia bellissima che però non finisce bene perché Nazim Ahmed riesce a andare via dalla Turchia e invece la donna che ama resta a lungo lei prigioniera invece di questo fatto perché la polizia turca gli stava addosso e se lei se ne fosse andata si sarebbe attirata tutta la polizia turca che è una storia che tu hai conosciuto poi tu ti sei anche arrabbiata con Nazim Ahmed sì perché una storia le storie umane sono molto complicate quando uno è stato 17 anni in galera si può capire anche che il fatto stesso che lui si possa intese ancora innamorare io lo trovo straordinario perché 17 anni di prigione possono ammazzare tutti i sentimenti e invece lui alla fine della sua vita dice io sono stato sempre innamorato e l'ho trovata una frase bellissima perché vuol dire che è un uomo che ha vissuto ed è stato capace di non farsi ammazzare da una cosa così terribile come è la prigione ma io ho raccontato queste storie perché ho incontrato le persone non le avrei potute raccontare se l'avessi sentito dire mi è capitato per coincidenze fortuite di incontrare i tre protagonisti di queste storie e queste storie mi hanno sempre molto non me le sono più dimenticate le ho continuate a covare dentro di me e questa prima di Nazim Ahmed in realtà la devo avere incocciato incontrato questa storia a una persona cara a questa isola perché era Joyce Lusso la moglie di Emilio Lusso la quale anche lei aveva incrociato questa storia e quando io partì per la Turchia per un servizio giornalistico e per fare anche una ricerca io ho fatto molte volte una cosa che in tante situazioni complicate si potrebbe vedere che sono andata a fare la gente segreto perché ogni tanto il partito comunista mi diceva vai in quel paese e allora per favore raccogli le notizie su quelli che sono clandestini in prigione in condizioni così infatti non a caso queste storie sono la Turchia la Grecia paesi che come sapete hanno avuto dei rapporti con la democrazia molto scabrosi e molto difficili alcuni ce ne hanno ancora la Turchia ce ne ha ancora la Turchia ce ne ha ancora peggio di prima e quindi Turchia era andata a ricercare il partito comunista turco che in dieci anni di dittatura si era perduto perduto la dittatura era stata così feroce c'era stato un colpo di stato che aveva buttato giù la dittatura ma era un colpo di stato militare ancora non si sapeva in che misura avrebbe ripristinato la democrazia o sarebbe stato soltanto un alternarsi di due differenti gruppi di potere e nel frattempo i comunisti erano andati in galera erano stati ammazzati erano clandestini non se ne sapeva più niente quindi sono andata lì con una missione un po' particolare la stessa che altre volte mi è capitato di dover fare in Grecia per esempio molto molto spesso e in questo caso Joyce Lusso che aveva avuto dei rapporti con Jans McBeth l'aveva conosciuto eccetera mi chiamò prima che io partissi e mi ha detto un incarico che era quello di andare a incontrare questa mure per annasce cosa che io poi ho fatto e la storia l'ho conosciuta da vicino così e così è stata in parte anche per le altre per le altre storie la storia greca è stata la stessa cosa e poi ce n'è un'americana che invece è abbastanza diversa e sono storie badate terribili perché sono la testimonianza di vite molto drammatiche una delle ragioni per cui ho scritto questo libro ve lo confesso e anche perché stufa di sentire sempre parlare degli errori degli orrori del comunismo anche giustificatamente per carità di Dio ho voluto dire badate che i comunisti però hanno fatto molti di loro anche una vita terribile per essere stati comunisti e cioè prigioni morte esili storie drammatiche come sono esemplarmente queste tre queste tre storie però la cosa che a me stessa mi ha colpito quando sono arrivata a raccontarle le ho scritte è che alla fine di queste storie beh queste persone sono tutte persone che sono stati felici perché sono stati come dire protagonisti di grandi passioni passione politica e sentimentale la storia greca in cui questa coppia ha passato quasi vent'anni nelle caverne di Creta nascosti in condizioni che non si possono neanche raccontare e però quando muore suo marito lei archirò dice il nostro matrimonio è stato molto felice ora hanno passato vent'anni nelle caverne a nascondersi dalla polizia ma quella frase era sincera perché come dire una storia d'amore che si alimenta anche di una grande passione politica civile si arricchisce più forte non c'è la noia del tram tram della vita senza emozioni e quindi questa frase in realtà si vede queste persone hanno vissuto hanno avuto delle vite più felici della vita grigia monotona che c'è stata mi è capitata una cosa curiosa ve la racconto di essere stata ampiamente citata da un giornale come il foglio in occasione della rottura del fidanzamento di Luigi Di Maio con una fidanzata che aveva in Sicilia perché la fidanzata ha detto ah il nostro fidanzamento si è rotto perché ci ha diviso la politica lui si occupava di politica e quindi il nostro rapporto non poteva funzionare bene ora è vero il contrario se la politica è una cosa seria che se la politica è una grande passione beh alimenta anche i sentimenti il rapporto questa cosa si vive con passione insieme certo se la politica è fare un povernino capisco che la cosa non sia entusiasmante e non alimenti l'amore ma insomma però mi ha molto colpito che si sia fatto un lungo articolo per fare il paragone fra i miei amori comunisti e la rottura del fidanzamento dei divani ma perché 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 insomma la politica è una cosa diversa da quella di cui si parla adesso perché adesso quando si dice politica la prima cosa che viene in mente è la corruzione il potere e così via la politica io per di cosa la politica uso sempre la spiegazione secondo me migliore che è stata fatta da Don Lorenzo Milani in lettera a una professoressa questo libro bellissimo che andrebbe letto da tutti perché Don Lorenzo Milani dice ho scoperto che il mio problema è uguale al problema degli altri uscirne tutti insieme da questo problema è la politica uscirne da solo è avarizia e l'avarizia è veramente il più meschino il più brutto il più squallido dei vizi ne esco da solo dal problema magari attraverso una raccomandazione attraverso forse io me la cavo attraverso qualche cosa mentre invece la politica è l'idea i miei problemi sono in fondo quelli degli altri e devo cercare di uscirne tutti quanti insieme ma questa idea della politica si è a tal punto smarrita che non viene più neppure in mente che possa essere questo e quindi anche questa è una delle ragioni per cui mi è venuta voglia di scrivere questo libro prima di abbandonare Hickmet che è stato un grande poeta Majakoski-Turpo in qualche misura volevo che tu raccontassi però per poco poco perché poi lo devono leggere per carità questo libro però raccontassi che tu eri arrabbiata con il me comunque avevi una sensazione diciamo sgradevole perché appunto Hickmet era riuscito a finalmente per fortuna fuggire riuscire a andare via dalle carceri turche ma lasciando questa donna che era stata e che continuava a essere la musa tutte le poesie sono quasi tutte le sue poesie sono dedicate a Munever e quando tu sai di andare lì la incontri vedi questa donna che ha dovuto vivere prigioniera nella sua senza essere in carcere prigioniera nella sua Turchia sei un po' arrabbiata con Hickmet però a un certo punto lo incontri perché appunto la vita di Castellina è che a un certo punto incontra un grande poeta turco e tanti altri e tu lo incontri e riesci a perdonare questo fatto che lui abbia abbandonato la sua musa la sua donna Nassim esce dopo 17 anni di galera e deve scappare perché lo stanno per riarrestare ed è una condanna a morte praticamente e quindi deve scappare gentandosi e con una barchetta poi a nuoto nel bosforo perché è di passaggio una nave rumena e con dei segnali si fa prendere a bordo e così viene salvato portato oltre Cortina perché in Turchia non aveva speranza di sopravvivere e lei non può partire perché è appena nato un bambino c'ha due mesi un bambino che hanno concepito appena lui è uscito in prigione e va e si rifugia in Unione Sovietica e lei non può partire non lo può raggiungere perché non le danno il permesso c'ha la polizia alla porta e ecco insomma è libera ma prigioniera praticamente e lui arriva già provato da tanti anni di prigione malato di cuore in questa Unione Sovietica che non è più quella che lui aveva conosciuto negli anni 20 che c'era stata la grande creatività di ogni rivoluzione vera e cioè di arte di teatro di pittura di poesia stati anni straordinari dell'avanguardia artistica mostra una città vivissima quando lui arriva negli anni 50 è già tutta un'altra cosa c'è l'oppressione staliniana una città grigia eccetera quindi bisogna pensare che sta dieci anni prima che lei possa essere liberata e quindi a un certo punto possiamo pensare che una persona rimanga da solo dopo aver passato già tanti anni in prigione credo che a un certo punto uno deve anche capire che a un certo punto cede a un'altra relazione è una storia molto drammatica in questo senso però mi ricordo che Joyce Lusso io gli disse ma perché non me l'avevi detto che è andata così e lei mi disse perché eri troppo giovane per poter capire e credo che fosse una frase giusta perché poi con gli anni si capisce di più anche le debolezze umane senti hai accennato a un tema di cui tu non metti proprio in primo piano in queste tre storie sono tre storie d'amore tre storie di comunisti che fanno delle guerre disperate la resistenza cretese disperata appunto alla fine finirà per anni arrampicati chiusi dentro le caverne come capre riescono sono storie di persone che hanno creduto fortemente nell'Unione Sovietica sono tre storie che finiscono nel dissenso in qualche misura è una storia un pochino che assomiglia anche alla tua e a quella dei compagni del manifesto che a un certo punto lasciava il PC naturalmente facendo le differenze in dissenso diciamo dalle linee dalla la linea sovietica in particolare sui carri armati a Praga allora in qualche misura ti suonavano anche per questo perché sia la coppia che si ama durante il maccartismo e che è fortemente filosovietica in quel momento ma poi perde questa fede sia i cretesi e anche i cmet a un certo punto si rendono conto che a Mosca c'era un'altra cosa rispetto a quello che loro avevano creduto ci sei un po' rivista anche su questo però diciamo la verità non sono nessuna delle storie che sono partite dall'amore per l'Unione Sovietica sono storie di persone che sono partite dall'amore per il loro paese voglio dire la storia di Creta è la storia della guerra civile a Creta che segue subito dopo la guerra perché sapete cosa succede in Grecia? in Grecia succede che i greci si sono liberati da soli dall'occupazione nazista cioè la Grecia l'hanno liberata alla resistenza prima ancora che arrivassero le truppe alleate e quando arrivano le truppe alleate il primo contingente è la flotta britannica dell'ammiraglio Scopi dice arrivano e gli dice deponete le armi e giustamente la resistenza dice deporre le armi deporremo le armi quando le avete fatte deporre tutte le bande fasciste che ci sono nel nostro paese perché poi sapete che la Grecia si è trovata dalla parte diciamo del fronte antifascista ma in Grecia c'era un dittatore fascista quando l'Italia fascista ha attaccato la Grecia una situazione paradossale ma questa era la cosa quindi il paese era ancora pieno di bande fasciste e quindi si rifiutano di deporre le armi e l'ammiraglio Scopi bombarda Atene non è che fa una cosa di meno bombarda Atene ci sono decine di morti e lì comincia un braccio di ferro molto complicato perché come dire da una parte è ancora la guerra siamo nel nel 44 c'è ancora un anno e più di guerra e non c'è ancora stato aperto il secondo fronte in Francia la situazione è ancora molto pericolosa quindi non bisogna rompere il fronte antifascista e al tempo stesso questi non possono accettare di cedere le armi in una situazione in cui vengono ammazzati dalle bande fasciste che ci sono in Grecia e quindi come dire lì c'è una battaglia che è una battaglia innanzitutto con un sacrosanto diritto di riprendere il possesso e il controllo del proprio territorio e finiscono a fare la guerra civile come dire ci vengono portati per i capelli ma alla fine questo finisce quasi come autodifesa e naturalmente è una guerra civile che perdono perché sono bande isolate lo stesso fronte antifascista l'Unione Sovietica stessa non ha nessuna voglia che ci sia questa guerra civile perché ha paura che si incrini la solidarietà del fronte antifascista mentre c'è ancora la guerra aprire una frattura era fatale e quindi come dire quello è chiarissimo che è l'elemento patriottico che è quello che infatti nel libro che loro scrivono di questa coppia greca si intitola non avevamo un'altra alternativa non potevamo fare diversamente loro avrebbero potuto in tutti gli anni di clandestinità nelle montagne greche firmare una lettera per la quale avrebbero avuto l'amnestia ma in quella lettera avrebbero dovuto giurare fedeltà al re fascista e loro questo non l'avrebbero mai fatto e non l'hanno fatto ma poi diventano appunto dissidenti l'Unione Sovietica quindi come dire è proprio una cosa patriottica così come lo è come lo è stata la battaglia di Nazim Kmet che è tutta impregnata della sua Turchia della liberare l'Anatolia e i contadini turchi tutte le sue poesie del resto sono ispirate a questo amore per il suo popolo quindi l'Unione Sovietica c'entra e non c'entra diciamo insomma in questa vicenda è un grande pregio nelle sue poesie e sono poesie che dicono sempre la verità dei suoi sentimenti e lui continua a un certo punto certo dopo anni e anni che sta solo malato sta per morire infatti poi muore eccetera c'è un rapporto con una giovane russa e lui dice in una sua poesia non si possono amare due donne contemporaneamente che bugia non è vero si possono amare due donne contemporaneamente e si capisce lui certo che ama ancora la donna che ha lasciato in Turchia e però poi perde la testa a un certo punto per questa ragione si capisce solo per i poeti naturalmente non è si capisce solo per i poeti voglio dire per i grandi poeti che rimaglia dici che solo per loro ma tu dici che per loro le persone non poete non è così la mia opinione di umile cronista non è interessante forse la tua è più interessante si possono amare due donne facciamo un interrogatorio con tutti e vediamo quali sono le risposte non è la posta del cuore per carità dice Iqmet c'è qualcuno che sa tutto delle piante qualcuno tutto del pesce io so tutto delle separazioni questo è anche un po' un libro sulle separazioni perché queste coppie si intrecciano si strecciano e si separano quando finalmente arriva il momento di stare insieme arriva nel caso dei due americani di cui stiamo per parlare arriva la morte ovviamente perché lui è stato fortemente lui è Richard Thompson è stato fortemente anche lui toccato dal carcere anche picchiato a morte in carcere e che sono appunto delle separazioni mi vorrebbe fare una battutaccia ma forse è meglio che una faccia un po' come la sinistra insomma era una cosaccia e tutte appunto queste coppie si amano si raccontano come coppie felici in queste tragedie però poi sono coppie che si che si separano che hanno continue separazioni c'è bella la frase in cui dice c'è chi è esperto dei pesci chi è esperto di questo io sono esperto di separazioni perché la sua vita è tutta una separazione ogni volta viene chiamato dal partito poi a lasciare quel paese quindi deve lasciare la sua donna sono tante le sue storie ma è sempre obbligato da qualche cosa per cui deve lasciare l'abbandono dover separarsi la storia americana è una di quelle che mi ha quella che mi ha stupito di più perché secondo me c'è quel periodo del maccartismo che si racconta un po' meno diciamo rispetto ad altre epopee resistenziali perché questi due giovani che non sono giovani uno è giovane e l'altro no si amano sono dei dirigenti sostanzialmente comunisti Silvia Bergman Robert Thompson caduti nella rete del maccartismo Thompson dopo un po' di latitanza finisce in galera viene picchiato quasi a morte ma è una vicenda che si conosce un po' meno quella dei comunisti americani degli anni 50 perché forse si conoscono le storie appunto dei grandi registi che sono stati perseguitati dal maccartismo che hanno dovuto fare il loro film sotto altro nome però invece di quei dirigenti sindacali di quei dirigenti di partito si parla molto poco è una cosa che è stata quasi cancellata perché? ma io mi sento un senso di colpa proprio perché anche noi in Italia l'abbiamo del tutto sottovalutata con la vicenda perché erano americani come? perché erano americani ma sì forse sì forse per questo forse per questo ma anche perché l'informazione è stata scarsissima per cui sì certo abbiamo conosciuto e patito per il caso Rosenberg quelli che sono più vecchi fra voi ma forse non c'era nessuno che sia vecchio abbastanza per ricordarsela quando furono messi sulla sedia elettrica questa coppia Ellen Rosenberg e il marito perché accusati di spionaggio atomico quella si è conosciuta ma appunto era una storia legata al fatto che in qualche modo loro lavoravano nel centro dove si preparava la bomba americana e quindi una condizione molto particolare e poi si è parlato molto di quanto furono perseguitati i registi e gli sceneggiatori di Hollywood che erano in larga parte comunisti fra l'altro anche perché molti erano europei che erano finiti in America per sfuggire al nazismo e questi che furono messi in prigione e poi fu proibito di lavorare per Hollywood e molti di loro continuarono a lavorare dal Messico o da altri paesi sotto falso nome ed è pazzesco perché moltissimi dei film più belli americani che abbiamo visto che hanno avuto l'Oscar eccetera vi ricordate Vacanze Romane per esempio quello famoso con Audrey Hepburn e chi c'era lui era Gregory Petti servì a lanciare la Vespa perché andava sempre in Vespa Vacanze Romane questo film bellissimo eccetera che ha preso un Oscar eccetera in realtà era stato scritto da un autore sotto falso nome perché lui era stato incarcerato e poi esiliato ecco di quelle storie abbiamo saputo un po' ma che poi la cosa la persecuzione fosse così vasta e toccasse molti sindacalisti insomma perché perché c'era stata negli anni 30 una grande partecipazione di comunisti alle grandi battaglie che si condusero negli anni 30 della classe operaia americana quella del periodo del New Deal ecco questo aspetto qua l'abbiamo completamente sottovalutato e abbiamo anche sottovalutato il fatto che insomma gli ultimi a uscire di galera sono usciti nel 1966 quindi diciamo la cosa era cominciata nel 48 è andata avanti perché c'è otto anni questa persecuzione pesantissima e del tutto assurda perché l'accusa per la base del quale furono condannati è che siccome si dichiaravano marxisti e marx aveva detto che bisognava abbattere lo stato borghese loro erano colpevoli di tentare di abbattere lo stato borghese quindi senza nessuna prova come dire di fatto e con una delle argomentazioni giuridiche che chiamano vendetta a Dio nel senso che nessun paese civile avrebbe mai potuto accettare quindi sono storie di pezzi di storie che dovremmo conoscere ma che in realtà sono poco conosciute in effetti bisogna dire la verità anche la storia di Creta è pochissimo conosciuta perché la guerra civile in Grecia sul territorio come dire continentale è abbastanza conosciuta ma quando fu sconfitta l'esercito siccome si batteva si batteva potevano passare il confine e si salvarono mentre Creta era un'isola e non potevano andare da nessuna parte e quindi fu un'epopea terribile perché non potevano scappare se non appunto piegandosi si ha la vergogna di firmare fiducia al ricco che non avrebbero mai fatto infatti non hanno mai fatto e poi c'è chi mezza una curiosa storia italiana perché quando finalmente riescono a venire via da Creta nel 62 quindi molto tardi li mettono praticamente su una specie di come gli scafisti oggi e li mandano verso l'Italia con un vocabolario italiano e con delle lire e con l'indicazione di appena arrivati al Salento arrivano ad Otranto e lo scafista c'ha paura e scappa e quindi loro rimangono ingrappati alle rocce sono in sei sono sei che sono vissuti sempre nella totale clandestinità quindi anche non sanno neanche più come è fatto il mondo eccetera gli dicono di lì di andare alla sezione del partito comunista italiano e di lì di dire chi sono e chi li avrebbero aiutati e loro vanno e invece si sono scordati di dire qualsiasi cosa per cui c'hanno delle peripezie incredibili e poi invece vengono riconosciuti e c'è una straordinaria solidarietà pugliese e poi riescono a stappare e vanno a finire l'Unione Sovietica si sposano e mandano una cartolina con le fotografie del loro matrimonio e quando io li ho conosciuti che mi hanno raccontato tutta questa storia ho detto guardate ma adesso in Puglia c'è un governatore comunista c'era Niki Vendola e mi ha detto ma perché avete fatto la rivoluzione l'autica e non l'abbiamo fatta è possibile in Italia è stato possibile pure questo in modo del tutto normale e allora sono tornata e sono andata da Nicchi e ho detto Nicchi bisogna assolutamente che li facciamo rivenire ma non era facile trovare quelli che li avevano aiutati perché erano passati tantissimi anni oramai erano morti non si trovavano più abbiamo dovuto fare una ricerca finalmente l'abbiamo trovata e questo incontro è stato un incontro incredibilmente commovente fra questi qui che abbiamo fatto rivenire e un c'aveva una ragazza ma una donna di 40 anni più che aveva andava a accompagnare la madre e si ricordava che aveva 4 anni che li portava da mangiare in un loro nascondiglio e c'aveva la fotografia che questi da Tascente gli avevano mandato con il loro matrimonio che finalmente si erano riusciti a sposare e quindi insomma sono storie chiuse che tu hai incrociato dici anche brevemente se vuoi come hai incrociato invece Silvia Bergman che è un'altra donna che tu hai incontrato la questione è che lei racconta storie d'amore perché ha vissuto non solo storie d'amore ma ha vissuto intorno a tutte queste vicende storie per cui doveva incontrare queste persone perché doveva fare delle missioni impossibili a nome del PC o a nome di Paese Sera di cui eri a volte inviata e quindi incrociavi queste persone nel tuo fare politica nel fuoco anche della tua battaglia io ne so tante altre ne so tante altre io ne so tante altre sai dico una cosa piccolissima che non ti ho detto neanche questa mattina io ho iniziato a lavorare con una lettera di Fidel Castro attaccata dietro la porta scusate sono nomi quasi impronunciabili adesso che diceva estimata compagniera Castellina e che ti racconta non te lo racconta perché me ne vergognavo di dirlo ho avuto il coraggio di dirlo solo adesso perché io ho fatto parte per parecchio tempo quando ero al Parlamento Europeo ero vicepresidente della delegazione permanente del Parlamento Europeo ed era come oggi piuttosto bella bella e non solo per questo ma anche per le sue naturalmente doti politiche Fidel Castro insomma no insomma in questa mia funzione andavamo per l'America centrale ed era l'epoca di tutte le guerriglie Nicaragua eccetera Cuba eccetera e fra le cose che noi dovevamo fare una volta all'anno ci dovevamo incontrare con il Dipartimento di Stato per confrontare la politica americana e la politica europea nei confronti dell'America centrale e dell'America latina e quindi avevamo questa cosa io sono andata per parecchi anni a questo incontro e fra questo incontro questa specifica occasione ci fecero incontrare anche con la commissione parlamentare per l'America latina che era presieduta da un italiano che si chiamava Torricelli l'onorevole Torricelli italo-americano che aveva fatto la più orrenda legge contro Cuba perché aveva appena inasprito le sanzioni e aveva addirittura fatto una legge per la quale gli Stati Uniti non avrebbero consentito di importare le ditte che avevano commercio con Cuba quindi non solo che loro gli Stati Uniti non avevano rapporti economici con Cuba ma avrebbero boicottato tutti quanti più o meno la teoria è come Trump adesso come Trump esattamente ma è peggio diciamo perché questa era veramente ma al peggio non c'è limite diciamo da parte di Trump mi pare anche Trump può peggiorare può migliorare beh insomma noi andiamo lì e facciamo questa riunione con questo orrendo deputato onorevole Torricelli e finita la riunione usciamo dalla sala del congresso dove abbiamo fatto la riunione e io rimango per ultima e al momento di uscire mi viene una tentazione irresistibile e cioè sul banco della presidenza ci sono sapete le targhette con i nomi e quindi fra quelle c'era il nome onorevole Torricelli mi viene una tentazione irresistibile siccome ero l'ultima prima di uscire vado nel banco piglio la targhetta torrevole Torricelli e me la metto nella borsa vale a dire rubo la targhetta usciamo e la visita successiva era proprio al dipartimento di stato arriviamo al dipartimento di stato e per farci entrare c'è il metal detector e io ho la targhetta di metallo dentro e dico madonna adesso che cosa faccio viene fuori che eri una persona rispettabile del pc io ero vicepresidente con una carica europea importante e la targhetta dentro e la targhetta che aveva rubato la figura di quegli Stati Uniti accusata di furto per avere rubato un oltraggio al congresso americano alla costituzione americana un casino un incidente diplomatico terribile quindi non sapevo che cosa allora mi arretro per dire vado fuori a buttarla se non che c'era in cui il stesso giorno l'incontro fra la delegazione palestinese e israeliana patrocinata dagli americani per cui c'era la polizia con il fucile spianato in tutti quanti gli angoli sono uscita ho capito che se buttavo una cosa di metallo mi avrebbero sparato sicuramente pensando fosse quella che bocca quindi torno indietro c'era niente da fare e alla fine sono passata per fortuna il metallo era un metallo di alluminio leggero e il metal detector non l'ha registrato quindi con un sospiro di sollievo sono passata in vero dopo un mese mi è capitato che dovevo andare sempre con una delegazione parlamentare a Cuba e allora ho portato a Fidel Castro il regalo la targhetta con il sovrascritto una regola torricenne e mi ricordo che Fidel Castro mi ha fatto una grande risata e gli sono ricevuto molti regali ma uno così ancora non l'avevo ricevuto mai e se l'è attaccata dietro la scritta mia giocherelloni questi comunisti dobbiamo riabilitare qui c'è stato in questa bellissima rassegna c'è stato anche se siamo nei tempi siamo nei tempi ti chiedo il titolo del tuo libro è un po' uno simolo Amori comunisti perché non lo so sarà che io sono di una generazione leggermente successiva poco poco in realtà poco poco però mi sembra che le organizzazioni comuniste in giro per il mondo non siano mai state tanto favorevoli all'amore in qualche misura ma anche al linguaggio tu fai un'innovazione in qualche misura perché sei una dirigente comunista che non deve dimostrare niente a nessuno rispetto a quello che ha fatto nella vita e a quanti diciamo missioni ha portato a termine che si mette a parlare d'amore per il pc italiano la parola amore era un po' penso appunto alla vicenda di Nilde Jotti alla terribile vicenda di Teresa Noce l'amore era un po' non era insomma una parola che stava nel lessico ufficiale nel lessico ma sai questa diciamo che è stata una c'è stato un periodo del comunismo in cui il comunismo è stato assolutamente invece molto scapigliato bohème pensa soltanto il gruppo bolscevico esuli eccetera c'era una libertà di costumi molto molto grande parlo proprio di quei primi anni parlo di prima della rivoluzione e anche subito dopo la rivoluzione il codice della famiglia emanato dell'unione sovietica è un codice assolutamente non non clercale non codino non conservatore per niente che succede che tanto è vero c'è una cosa bellissima che è quella che è all'origine della famosa cosa i comunisti rubano i bambini io ho fatto una campagna elettorale ancora anche i manifesti rubano sopra scritto rubano portano mangiano o rubano più spesso li mangiano le manifesti della DC nella campagna elettorale 48 dicevano portano via i bambini lo Stato porta via i bambini in realtà il codice diceva una cosa molto bella diceva per ogni bambino che nasce lo Stato deve farsene carico per dire non deve dipendere dalla famiglia se la famiglia non lo fa è compito dello Stato di farlo questa cosa fu stravolta nel senso che lo Stato si pigliava i bambini e quindi poi c'era un bellissimo codice familiare a un certo punto si rendono conto che nello sforzo terribile di ricostruzione dopo tutte le distruzioni della guerra civile in Unione Sovietica hanno bisogno del lavoro delle donne e per avere il lavoro delle donne hanno bisogno delle nonne delle babucche e nel momento in cui hanno bisogno delle babucche hanno bisogno della famiglia unita e quindi c'è una svolta codina diciamo che avviene proprio negli anni trenta in cui tutto è fatto per mantenere assolutamente stabile il nucleo familiare e quindi comincia questo puritanesimo così perché c'è bisogno che le babucche e le donne stiano là a guardare i bambini perché le madri devono andare in fabbrica a lavorare e questo si ripercuote anche nei confronti dei partiti comunisti io quando sono entrata al partito comunista era già così anzi devo dire che sono il mio primo racconto anche questa e poi racconto anche questa ma io mi trovai io sono diventata comunista il mio primo rapporto con il partito comunista è stato piuttosto anomalo diciamo perché io avevo mio nonno era triestino era grande amico di Guglielmo Oberdan e con il quale è stappato insieme da Trieste per non fare il servizio militare sotto l'imperatore Francesco Giuseppe insomma ve la faccio lunga il vito di Trieste italiana e di Oberdan me l'hanno fatto bere come il latte materno da quando sono nata nel 45 appena liberata Roma esattamente 8 giorni dopo cominciano già le prime manifestazioni per Trieste italiana nel senso che le truppe jugoslave non erano ancora entrate a Trieste perché gli alleati non erano entrati ci fu un ritardo nella liberazione proprio questo primo scontro che c'era già stato e però alla mia scuola il tasso già hanno cominciato ad organizzare le manifestazioni per Trieste italiana e naturalmente per via di mio nonno io sono andata in prima fila a fare la manifestazione della mia scuola per Trieste italiana mi sembrava il mio dovere e quando sono arrivata a Piazza della Repubblica che allora si chiamava ancora Piazza delle Sedra sono entrata nella piazza stavano a fluire i cortei di tutte quante le scuole e io disse alla mia compagna vedi come è riuscita appena la manifestazione la piazza è già piena la piazza era piena di operai comunisti che ci picchiarono di santa ragione questo è stato il mio primo rapporto perché c'avevano ragione loro intendiamoci bene c'avevano ragione per una perché perché noi non c'eravamo resi contro non sapevamo eravamo ragazzini che queste manifestazioni erano diretti proprio tecnicamente diretti da un gruppetto di movimento non c'era ancora il movimento sociale di fascisti è stato un rapporto un inizio doloroso insomma un inizio doloroso a schiavi capitano a penna nera a schiavi che poi dentro l'assalto armati durante mentre noi eravamo l'appicchiati alla sede del partito comunista che allora era via nazionale e da lì venne fuori un gruppo trappello poi che fece un comizio improvvisato e raccontò che come noi abbiamo trattato gli italiani hanno trattato gli sloveni la prima pulizia etnica l'hanno fatta i fascisti nel Friuli e io li sono stati a sentire mentre mi stavo riparando dal colpo che avevo preso su una spalla la conoscenza è dolore insomma e ho detto ma ci avessero ragione questi comunisti e così è iniziato il mio rapporto ma prima ancora di iscrivermi al partito comunista sono andata al festival della gioventù a Praga il festival della gioventù a Praga per andare poi in Jugoslavia a fare le brigate del lavoro volontario per ricostruire la ferrovia Shamak Sarajevo che era stata distrutta dalla guerra e la brigata internazionale doveva partire da Praga ma tardava sempre perché era molto difficile viaggiare nell'immediato dopo guerra in Europa prima perché era tutto distrutto poi perché nessuno aveva più i passaporti regolari l'India era stata dichiarata indipendente una settimana prima e gli indiani non sapevano più che passaporto dovevano avere eccetera alla fine quindi ritarda la partenza della brigata internazionale e c'erano due o tre giorni e c'erano un gruppetto di compagni inglesi tre compagni inglesi rigorosamente maschi che mi dicono andiamo a fare l'autostop in giro per la Cicoslovachia io non sapevo neanche cos'era l'autostop perché noi in Italia non lo sapevamo era un'usanza dei paesi antifascisti e quindi però ho detto subito sì certo fare l'autostop fu molto difficile perché non c'erano le automobili in Cicoslovachia subito dopo la guerra ma sui carri di pieno eccetera un viaggio interessante tornai dopo tre giorni e trovai il tribunale della federazione giovanile comunista presieduto da presieduto da Paglietto e mi fece il processo perché io ero andata via con tre maschi inglesi a fare una cosa oscura che si chiamava autostop e che nessuno sapeva cos'era e a quel punto fra il processo mi fece il processo mi dissero Paglietto mi fece un gran discorso parlandomi di una lettera di Clara Zetkin di un lettera famosa poi tutti quanti quelli che hanno fatto le scuole di partito la conoscono questa cosa perché era un dialogo fra Lenin e Clara Zetkin in cui Lenin diceva che non bisognava bere un bicchiere che era brutto per poggiare le labbra sul bicchiere su cui si fossero poggiate altre labbra voleva dire che bisognava essere insomma fedeli e comunque anche prima del matrimonio e mi fecero tutto questo discorso Clara Zetkin e Lenin io non ho capito neanche di che parlavo non capivo di che cosa parlavo perché io venivo da Trieste dove c'era una come dire purtani ma ma come dire un altro tipo di costume insomma e che non era e cioè quel pc in quegli anni lo fu moltissimo fino agli anni 50 poi smisero però di essere l'amica sì quella non è tra le cose migliori il carteggio con Clara Zetkin che ha fatto non è tra le cose migliori certamente anche altre non sono belle per carità alcune invece no invece abbiamo questa meravigliosa luna piena dobbiamo concludere faccio le ultime due rapidissime domande due piroppi piccole perché sappiamo che siamo nei tempi abbiamo ancora un altro appuntamento qui nel festival prima stavi dicendo che non sono tempi di grandi passioni non sono tempi di grandi amori non ci sarebbero queste secondo me non ci sono abbiamo detto che Di Maio si è lasciato con la fidanzata per via della politica la politica anziché fare diciamo la grande passione non sono tempi di queste grandi passioni eppure nel bene e più spesso nel male nel male quello che sta succedendo in questi giorni suscita grandi passioni insomma questo governo nei suoi ministri lavora non è che si può dire che non susciti passioni che non susciti dei grandi consensi Salvini più apre bocca più dice delle cose adesso poi mettete l'aggettivo giusto ciascuno per il suo e più prende consensi il microfono ci vuole il consenso non è passione però il consenso è anche il rifiuto di prendersi delle responsabilità il rifiuto di avere un'idea del mondo vuol dire accetto accetto così così e poi fra passioni e rabbia e furori c'è una bella differenza no? cioè no non gli riconosco il diritto di essere chiamati passionali passionali assolutamente no era Doloresi Barrui la passionaria roba Doloresi Barrui Salvini no non va bene allora una domanda che devo farti per forza è il finale appunto sotto la luna piena che del ghero amori comunisti è un tributo tuo un amore grande alla tua storia alla tua alla tua storia che ci ha raccontato per pezzi avete sentito le cose che ha vissuto che confesso che ho vissuto diceva il poeta ha vissuto molto un tributo un amore alla tua scelta di campo che è una scelta quasi impronunciabile oggi la parola comunista è quasi impronunciabile dico potrei recitare le lettere che noi le mail che noi riceviamo al manifesto tutti i giorni di gente che ci insulta e che ci dice come caspita fate voi ancora a chiamare a chiamarvi così e siccome tu sei una fondatrice sei la più autorevole nel campo ce lo dici tu perché ti ostini a chiamarti comunista perché quest'amore comunista perché io sono meno pessimista di te perché c'è in realtà sta venendo fuori una generazione giovanissima ancora un pezzo minoritario però un pezzo importante che lo sta riscoprendo la storia e sta riscoprendo la storia anche al di là di tutti gli stravolgimenti che sono stati fatti e quindi io sono mi ci trovo bene la parola comunista gli piace e quindi sono più fiduciosa certo minoranza ma questo si comincia sempre con una minoranza e poi si va avanti allora Luciana Castellina Amori comunisti edizioni che è una che non di tempo la voglio dire la voglio salutare come lo saluterebbero molti qua cara Luciana Amosfera grazie grazie a tutti grazie a tutti